Ben trovati l'ATG della mobilità, ultimo giorno della settimana europea della mobilità, molti gli appuntamenti oggi in città, dalle 9 Appia Day, evento che da 9 anni celebra la storia della regina Viarum. Nel corso dell'evento si svolgerà anche il campione La Zanzara, uno spettacolo itinerante con attori e pubblico in bicicletta, con ritrovo e partenza da Porta San Sebastiano. E sempre stamattina dalle 9.30 alle 11.45 circa, manifestazione sportiva Bici Roma, la pedalata più bella del mondo, con partenza e arrivo in piazza del Popolo e percorso lungo le strade del centro dalle 9 alle 12, modifiche per 33 linee. I dettagli sugli eventi romamobilità.it.